Buonasera Zaia. Allora, dico subito una cosa che magari farà incazzare qualcuno. Prego. Perché sto per dare i dati del Veneto. Ah, bene. 4 milioni e 900 milioni, l'agnoni. 4 milioni e 900 mila al contrario. Questi sono il totale degli abitanti? Sì, era al contrario, ma non importa. Questi sono quelli astemi zero? Ma no, gli astemi. Zero mila che a occhio corrispondono allo zero virgola? No, è zero, guardi. 4 milioni e virgola? No, è zero. Vabbè, non sto qui, dai, non fatemi fare il conto in diretta, fatevelo voi. Ma infatti comunque è zero. Vabbè, adesso lo faccio, dai, 1 per 3, 3? No. Scrivo per cento, porto virgola, 30 di sono a novembre, fa 0 virgola per cento, punto e virgola. Vabbè, fatevelo, dai, la giornata ci so.